I negozi di vicinato di Santa Lucia, il Cavalciotto e la Gualchiera, sabato 28 settembre, diventeranno il set fotografico dell'iniziativa Moda in scena protagonista Santa Lucia, organizzato da Confesercenti con il patrocinio del Comune di Prato. Abbiamo fatto questa esperienza a Galciana nella prima vera estate di quest'anno. Ci siamo trovati molto bene, anche i nostri commercianti sono rimasti molto soddisfatti e abbiamo pensato di ripetere l'esperienza su Santa Lucia. Abbiamo trovato un gruppo nutrito di commercianti che ha aderito all'iniziativa, siamo molto soddisfatti di questo. E pensiamo che venga una cosa molto carina e molto interessante, per quello andiamo avanti su queste iniziative che per noi sono eventi che cercano di rivitalizzare quelle che sono le nostre periferie. L'edizione settembrina è stata estesa anche ai negozi alimentari e ai ristoranti. Gli esercizi commerciali a partire dalle 8.30 accoglieranno fotografie e modelle, poi gli scatti compariranno in un book e saranno postati sui social e a dicembre saranno esposti insieme a quelli realizzati a Galciana in una mostra alla Sallo Vale della provincia. La prossima settimana saremo a Santa Lucia, una frazione che ha un'identità importante per la città di Prato e il Comune di Prato nelle proprie linee di indirizzo e nelle azioni in generale dal punto di vista dell'urbanistica ma anche dal punto di vista del commercio ha come obiettivo quello di stare accanto ai commercianti e ai cittadini delle nostre frazioni che sono un centro fondamentale per la qualità della vita e per il benessere nella nostra città. Grazie.